Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È gravissimo quello che è accaduto nelle ore scorse, infatti Israele ha attaccato l'Iran, ha lanciato bombe che hanno colpito l'Iran, le agenzie di stampa ci assicurano che i siti nucleari sono al sicuro, gli Stati Uniti per parte loro segnalano che avevano già da tempo avvisato l'Iran che vi sarebbe stato questo attacco, insomma la guerra continua. Siamo già a tutti gli effetti in una guerra medio orientale che vede contrapposti da una parte Israele e i suoi alleati, in primis gli Stati Uniti e poi in subordine la colonia europea e dall'altra tutti i paesi disallineati e critici verso Israele, l'Iran in primis, il popolo palestinese e poi la Russia e la Cina che supportano la causa dell'opposizione all'Iran. Da notare che il coro virtuoso dell'opinione pubblica liberale atlantista aveva condannato spietatamente l'attacco iraniano dei giorni scorsi contro Israele e adesso tace rispetto all'analogo attacco fatto da Israele contro l'Iran, anzi in taluni casi si avventura a celebrarlo mobilitando il ben noto argomento del diritto di Israele di difendersi, diritto che, l'abbiamo capito, comporta la possibilità per Israele di fare di tutto e di più, sempre presentandolo anche nei casi più aggressivi e offensivi come diritto di difendersi. Per inciso si può anche sottolineare come tutta questa vicenda ebbe inizio quando Israele, qualche settimana dietro, colpì con le bombe l'ambasciata iraniana in Siria, quindi Israele colpì uno Stato sovrano e per di più l'ambasciata di un paese straniero, un fatto di gravità inaudita che però l'opinione pubblica liberale atlantista si è guardato bene dal condannare come pure sarebbe stato doveroso fare.